Presidente, nella manovra Monti c'è il taglio delle giunte provinciali e il numero di consiglieri massimo a 10. Perché vi opponete? Noi riteniamo nei prossimi giorni di promuovere ricorso presso la Corte Costituzionale per gli aspetti di incostituzionalità. Le province sono un organo costituzionale, sono protetti dalla Costituzione, con un decreto non si può decidere di modificare né la struttura elettorale né la composizione. I veri costi della politica, così come abbiamo dimostrato con lo studio della Bocconi, non risiedono nelle province. Noi rappresentiamo l'1,4% della spesa pubblica del nostro Paese. Faremo appello ai gruppi parlamentari perché possa essere espunto dal decreto la norma di carattere ordinamentale. Per quanto mi riguarda chiedo al mio partito che su questo tema ho chiesto già un incontro al segretario Alfano perché riunisca gli uffici di direzione del partito perché su questo tema è necessario assumere una posizione molto chiara. Nei tagli delle province si vedeva un taglio simbolico dei costi della politica. Lupi dove propone di tagliare i costi della politica? Oggi la soppressione o portare a 10 consigli provinciali significa ridurre non più di 25-30 milioni dei costi della politica. È un segnale, io ritengo che invece le risorse vadano ricercate in quella miriade di enti intermedi che costano 2 miliardi e mezzo di consigli di amministrazione le cui funzioni potrebbero essere benissime assorbite da comuni e province. Penso ai bacini in briferi, penso agli enti parco, agli enti del turismo, penso alle società, ai gruppi di azione locale, ai GAL, ai consorsi di bonifica, quindi alle società partecipate ad una miliardi di enti che non hanno il controllo dei cittadini.